Con la precedente di Progetto Cuore, tu stavi raccontando poco fa a queste signore a che cosa può servire un progetto così. A che cosa è servito questo spettacolo di fiori? Prima eliminare tutti gli avanzi di lana che avevamo in casa perché con tanti colori e poca lana non riusciamo a fare coperte. E poi con le offerte che lasciano nella cassettina noi paghiamo le spedizioni delle coperte che faremo il 25 settembre e faremo la manifestazione. Dove la farete la manifestazione? La manifestazione verrà fatta in piazza all'amfiteatro come tutti gli anni. A Fondi? Il 25 settembre. Perfetto. L'anno scorso per inviare le coperte che avevamo fatto che erano 2450 abbiamo speso 700 euro, quasi 700 euro, 690 con precisione. Però quest'anno già siamo arrivati a 3200 e ancora stanno aumentando perché le coperte stanno arrivando e io sto assemblando. Servono soldi per le spedizioni. L'associazione Progetto Cuore è povera e noi abbiamo pensato di fare questo per ricevere un contributo dalle persone che vengono ad ammirare lo spettacolo. Quindi chiunque può venire qua e prendere una di queste cose e lasciare un'offerta. E noi questa scatola che è chiusa, sigillata, l'apriremo per fare le spedizioni. Perfetto. Quindi Gabriele, chiunque volesse partecipare a Progetto Cuore come deve fare? Allora, tutti quelli che vogliono partecipare a Progetto Cuore o mi chiamano 347 25 49 208 oppure sulla pagina di Facebook Associazione Progetto Cuore. Perfetto. Gabriele, noi ti ringraziamo e chiamo anche buona domenica. Grazie a te. Ciao, ciao. Ciao, ciao.